Mi chiamo Dall'Europa Merlè Che se vi ricordavate Noi abbiamo ordinato il parquet Finalmente siamo usciti E ci stiamo indirizzando verso Viterbo Cioè regata Civita Vecchia Ci siamo ritrovati A Rocca al Vecce Cioè so farelli dei meraviglie A mostra Entrani al cancello di qualcuno Cioè se qui ci sta un medio Ma rimeno vado ti giuro Ma qui che c'è sta media world Abbiamo scritto media world Anziché un euro Che c'è sta a Viterbo We can run away Castle in the sky Won't you take me home And give me wings to fly We can be alone In the castle in the sky We can run away And leave this world behind Please just take me home To a castle in the sky Castle in the sky But I'm not going away And leave this world behind me Finalmente Siamo arrivati Mi sa che ce l'ha più No Regan E stiamo qua Eccolo qua Proprio qui sopra 1 euro No media Mammaggia Comunque il colmo E se non c'è sta Io spero proprio che ci sia Lo spero che tutto me stesso Sì ma con la fortuna che abbiamo noi Che tutto e subito non lo possiamo avere Ma noi gli udiamo Veramente Seguiteci per vedere come va a finire Questa faccina Eccoci qui Finalmente ragazzi A casa Cioè voi vi rendete conto Che siamo usciti Che erano le 4 Giusto? Sì Le 4 dovevamo andare Semplicemente vicino Viterbo Che era manco un'oretta da qua Amma mi correggi Sì Un'oretta da qua Al volo Un'oretta Cioè dobbiamo fare una cosa Al volo E ritorna Siamo uscite le 4 So le 8 Ok raga Perché siamo andati fino Ancuno alla luna Che sono le due ore Di macchina La colpa La colpa nostra La colpa nostra Vabbè comunque Tutto questo per dirvi Che siamo a casa E tutto questo Aspetta Giordano Per dirvi che Oggi Abbiamo avuto la fortuna Oggi possiamo dire Siamo stati fortunati Che quello che cercavamo L'abbiamo trovato subito Però era quello in esposizione Però era quello in esposizione E in più Abbiamo pure pagato di più Abbiamo pagato 20 euro di più Abbiamo pagato 20 euro di più Ah beh Se non fa Se non fa però Non ho capito E questo è l'oggetto in questione Ma per te li prendo solo Giordano Allora Questo è l'oggetto in questione Il DJI Osmo Pocket Che è un attrezzino Vi faccio vedere Al volo Un attrezzino Molto simpatico e carino Adesso lo accendiamo E questo qua Lui Praticamente serve per fare i video E i selfie Ma non è questo qui Non è questo qui Lo schermo suo principale Però si può collegare Al telefonino E lui fondamentalmente È uno stabilizzatore Lo spegniamo E lo ripugniamo nell'apposito Vabbè ragazzi Questo per dirvi Che ci siamo fatti Un'altra Tra virgolette Videocamera Molto più piccolina Invece che sto Papier E c'è da dire Che fai video in 4k Quindi tanto ti hai guadagnato Vabbè Perciò Ma tutto questo Perché Perché Arieccoci qui A cercare Di essere un po' più attivi Sul canale Esattamente Giusto Sì E anche su Instagram Anche su Instagram Cerchiamo di impegnarci E anche su Instagram Anche perché In queste giornate Giordano O litighiamo O se scanniamo Se stiamo a deprime E questo E questo Si ricollega Al fatto Quando mi dicevo In bagno Che è stata Un po' una settimana Un po' dura Un po' di pensieri Per fatto di quello Che stiamo a passare Giordano Tra malattia E tutto Ogni tanto si deprime lui Poi mi deprimo io Poi non usciamo più Da casa Questa è proprio La cosa concreta Inutile farvi vedere Cosi sempre solo felici Non è vero Ci sono anche I momenti tristi Ci sono i momenti tristi Purtroppo Perciò vogliamo prendere Un pochetto In mano Diciamo Un'altra volta La vita nostra Un po' più attiva Nel senso Che siete poi Fondamentalmente voi Ragazzi Perché in momenti In cui siamo felici Siamo quasi sempre con voi C'è da dirlo Si è vero Infatti Quando noi Siamo tristi Non riprendiamo Perché è inutile Regà Come inutile Una volta Allegria Al canale A parte che non ci si arregge Proprio Si Non ci si arregge Proprio Non sarebbe una cosa bella Comunque E quello poi A fine Si riprende Perciò questa sera Usciamo Usciamo insieme Con voi E queste sono le immagini Che seguono Che registriamo Con l'osmo pocket Ok Cioè stavo dicendo Prima che Giordano Mi interrompesse Che usciamo Andiamo a cena fuori Con Martina e Matteo Cioè con mia sorella E il ragazzo E vi portiamo con noi Anche questa sera E proviamo Quella lì L'osmo pocket Che poi regà Muove svelo una cosa A me mi è stato anche bene Che Giordano L'ha presa Sai perché Perché se vado dentro A qualche negozietto Se vado dentro Ecco Non si vede Perciò mi vergogno di meno Lo capite Che se mi metto Poi una videocamera Grossa così Così La gente Puntualmente Ti guarda fissa Come se chissà Che stai facendo Invece quella Magari piccoletta Così Ve posso portare Sto abitate più intero Normale No Vabbè Forse Sbagliate a mettere In creazione Non lo so Oh eccoli qua Ciao bello Ciao bello Eccoci qui Che dite Tutto a posto Tutto a posto Dormiti Andiamo a mangiare Che Andiamo a mangiare Però Come al solito Eh so C'è il flash Però come al solito Come ho fatto Ma Non abbiamo ordinato E vabbè Qualcuno ci farà a mangiare No Martì Mi va a mangiare Così Alza la schiena Allora Eccoci qua Qualcosa pare Che sono riuscito A sistemare E Praticamente Niente Lui ci segue Sì Stiamo andando a cena A mo vuoi qualcosa Hai fatta Un po' di luci Sì Un pochettino O perché Matteo Ce sa Non ce l'ha No Perché Ma ce l'ha Non ce l'ha Un'illusione Vabbè Niente Adesso Poi piano piano Vi diremo pure Come ci troviamo Poi piano piano Vi diremo anche Come ci troviamo A posto a giugino Che Sembra Interessante Insomma Adesso Però Pensiamo ad andare a cena Prima E quello E quella è la cosa Fondamentale Ora A dopo Ecco qui Siamo arrivati Finalmente Ah regà Non ci stiamo a capi niente Con questa videocamera È un po' È un casino Piano 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 Se dovremmo imparare Perché io Ah Ok Perché io Praticamente Mi inquadro Ma c'è la videocamera Che Prende Giordano E si gira da sola Non lo so Ma senti Perché non lo levi Sta cosa Così Vabbè regà Stiamo a sclerare Per stare videocamera Comunque Comunque Perché è piccola Ma fa come cazzo Gli pare È stata capilla Adesso Che non piano Devemmo fame regà Mamma mia Sì Maglio pure il ristorante Maglio Voglio mangiare la pizza Però vorrei mangiare Pure il pesce Come stai Fondi una pizza Col pesce sopra Ah la pizza Col pesce sopra È schifo È indecita Volete la pizza Che pesce Certo Ci mettono anche il pesce Vabbè scusate Ma una pizza Che gamberettine E pesce Eh sì Allora 4G Sì 60 fotogrammi al secondo E la cosa caillarda È che tu fai così E ti inquadra E ti inquadra Però lui che fa Lui ti segue Certo Vabbè È tipo stabilizzatore Eh certo Vedi Mi segue a me Allora Siamo qua Voglio dire qualcosa Regà Siamo qui Stiamo aspettando Sembra delle sorelle Kessler Siamo qui Stiamo aspettando Che ci facciano mangiare Perché non c'è posto Ovviamente Vogliamo prenotare Però Non ci risponde A nessuno Al telefono E quindi Siamo qui Ad aspettare Questa è la situazione Samanta E Martina Ciao ragazze Di qua invece Di qua invece Ci siamo Io e Matteo Siamo su questo posto Dove C'è un tavolino Un tavolinetto Bello Assambo alla panoramia Questi sono I piatti E che stavi chiedendo adesso? Il dolce Il dolce E questo Ci sono le panze Avete gradito? Sì Buono 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 Ma qui Fiamo spazio Al dolcetto Spazio io dico Ma si ordina L'ora Il menù Voglio il menù Grazie Grazie Il menù Un menù Grazie Grazie Stato per tiramisù Che insomma Quando sta Curio Lo so Sta a mangiare Lei è la signorina Tartufo nero Il signorino Tartufo bianco E' la signorina E' la signorina E' la signorina E' la signora Allora siamo qui, siamo usciti dal ristorante, aspettate che se no non ci vedete, ok, siamo qui, siamo usciti dal ristorante, loro non lo so che stanno a fare, loro non lo so che stanno a fare là dietro, noi invece stiamo qua davanti, siamo gialli, siamo un po' gialli, scusate ma ancora siamo ad imparare bene certe impostazioni. Eccoci qui amici, ritornati a casa e finalmente con la mia videocamera normale, è un po' difficile la trovasse bene quella là, però piano piano si imparano tutto. Cioè scusate se le clip precedenti saranno un po' così, però piano piano troveremo il nostro equilibrio, ecco. E poi certe clip le ho dovuto fare anche col telefonino, c'è da dirlo, perché ovviamente la videocamera non me l'avevo portata perché facevo affidamento in quella, ma lasciamo stare un casino stasera. Vabbè comunque, in tutto ciò speriamo di avervi tenuto comunque compagnia e cerchiamo di essere più presenti o li dimmo un'altra volta. Vabbè. Però domani, domani vi riverrete con noi perché domani andremo a prendere finalmente il parquet. Questo è un tassello per? Per che si aggiunge al tassello di tutta casa. Tutta casa. Vi abbiamo fatto vedere la stanza principale che stiamo facendo, che è riguardante studio, youtube, tutto quello. Ma poi ve la facciamo vedere. Ma domani, tutto domani ragazzi. Esatto. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale. Seguidici su Instagram, ci chiamiamo Giordia e Sami. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.